Una delle città più affascinanti e magiche della Puglia, un palazzo storico rimasto chiuso per 40 anni, due imprenditrici straniere che scelgono di investire in Italia e una mostra a suggellare questo straordinario incontro culturale. Siamo ad Ostuni, il cantiere è quello di Palazzo Tanzarella, uno stabile e signorile dell'Ottocento recuperato e restaurato dallo studio Florend Venezia e che presto ospiterà Paragon 700, più di un progetto di un hotel di lusso in cui turismo e cultura saranno due facce della stessa medaglia. Ad abitare per pochi giorni le stanze ancora in fase di ristrutturazione per il progetto Cantieri Mentali, le opere di Caio Gracco, artista contemporaneo salernitano che per questa mostra è esposto alcuni dei suoi lavori più recenti. Sono un inguaribile ottimista, assolutamente ottimista, cercare di avere sempre quella forza che ti può portare avanti e credere negli altri. soprattutto. Basta semplicemente guardare la persona che ti ha di fronte come un, non un oggetto ma come un soggetto, come una persona, come i miei modelli quando posavano, io ero lì dietro a farmi suggerire da loro qualcosa, avevo un'idea ma poi la trasformavo perché qualcuno mi dava, eventualmente, che poi è un'arte in movimento, si capisce, e mi dava questo senso del volare, della passione, tutto e tac. La figura umana si moltiplica e si apre al movimento, una riflessione in atto sulla rappresentazione del corpo come contenuto complesso e fondamentale per l'autodeterminazione di ogni individuo. Nelle opere di Gracco il segno diretto della mano genera l'idea della mente, il colore si fa contenuto e non più mezzo formale e la materia si traduce in valori di luce. La puoi leggere da questi presunti calamari della guerra, che poi speriamo di no, che è sulle porte, mi pare, e quindi mano a mano poi tu la puoi leggere in questo senso. Dalla guerra si arriva poi dove? All'amore, all'obbligo, a un non luogo, la figura in fondo. Il bianco dello sfondo è un contesto apparentemente assente e sono la chiara rappresentazione del non luogo, un po' come le bianche pareti di un museo, quasi in antitesi con le mura cariche di storia di Palazzo Tanzarella. È un bianco che è un colore allo stesso tempo, ma quasi tutte le mie cose che ho fatto, ho lasciato sempre il bianco. È un po', è un racconto che inizia, ma che comunque te lo devi anche interpretare, te lo devi immaginare. Adesso figurate questo quadro, completo, riempito di tutto, il bianco non c'è, è un caos. È la vera vita che poi non ti soddisfa. Gli architetti che mi hanno praticamente dato la possibilità di fare questo, è che a me è sempre piaciuto andare in posti a fare le mostre dove non c'è il cosiddetto cimitero museale. Sai, il museo è scontato, si fanno la mostra, ma non è tua. Qui invece diventa una mostra quasi come un abito, che te lo metti a dole. Gli architetti sono stati bravissimi, che hanno avuto questa idea, e che poi diventerà, credo, un qualche cosa di stupendo in questo contesto che è Ostuni. Questo evento eccezionale rientra pieno nell'identità del futuro Paragon 700, il cui concept dell'interior design è interamente a cura dell'ID Living e che ambisce a portare in Puglia un nuovo modello di turismo. Ulrich Bauschke e Pascal Laubert dalla Svizzera hanno scelto questa terra magica per lanciare il loro nuovo progetto. Il nostro palazzo, quando l'abbiamo visto, abbiamo subito pensato che quello è un posto che può andare non solo per un albergo, ma anche per fare un turismo diverso di culturale e turismo di piacere. Vogliamo miscelare l'arte locale con il turismo balneare o tutto ciò che si comprende nel turismo. Per noi era già l'architettura, perché tutti i centri storici sono molto belli, e anche il mare, sono piccole spiagge, scoglie, sono differenti con le grandi lidi, è più personale e sì, le alberi di Olivia sono come una scultura, sono tutte differenti. Abbiamo sentito che sono delle persone, voglio dire di qua, i pugliesi, che pensano che si devono scappare. Noi pensiamo che quella regione ha tutto per fare bene e noi vorremmo dare un esempio che è possibile di far crescere quella regione ancora di più. È la prima volta che un cantiere si apre al pubblico, invitandolo a vivere un'esperienza unica tra arte e architettura. A curare il progetto Cantieri Mentali sono stati Alexandra Gracco-Copp e lo studio Florend Venezia.